Eccomi, ciao, buongiorno, direi che eccoci, mi vedete le mie manine? Perfetto. Allora, cosa volevo farvi vedere oggi? Innanzitutto volevo farvi rivedere il nostro tronchetto che abbiamo fatto ieri, come vedete, e quello che ieri abbiamo fatto con il mold effetto legno, ok? E poi abbiamo aerografato. Quello che oggi, l'idea della demo di oggi e della promo di oggi me l'ha data Annalisa, la quale tra un po' diventerà la mia tester ufficiale, perché ogni giorno si testa un prodotto nuovo, e quindi un abbraccione a Annalisa, grazie infinite. E oggi volevo parlarvi di un prodotto che vi sta piacendo veramente tantissimo, uno vi è sempre piaciuto, ed è la nostra Hard Rock Flower. Ciao Alessio, ciao, un abbraccio! E l'altro prodotto che vi sta piacendo veramente tanto è il nostro mold in silicone floreale. Adesso io, come l'altra volta, procedo a ritroso, cioè questo qua contiene già la pasta di zucchero, che è stata, diciamo, tenuta in frigorifero per circa dieci minuti, ok? Io adesso la vado ad estrarre. Come vedete, questo mold è molto frastagliato, ok? Ora, questo qua ho usato della pasta di zucchero colorata, e quindi chiaramente si è un po' sporcato. Quindi, che cosa succede? Che, soprattutto adesso che fa caldo, la pasta di zucchero tende a rimanere morbida, e quindi diventa più difficile andarlo ad estrarre. Quindi io che cosa faccio? Innanzitutto, mettiamo della CMC o della gomma gradante all'interno dello stampo, ok? Ciao Codruzza, un abbraccio! Dopodiché, inseriamo all'interno la pasta di zucchero, in questo modo, ok? Cercate di, aspettate che sposto un attimo tutto, cercate di schiacciare il più possibile, magari se volete vi potete aiutare anche con un mattarello. Dopodiché, tagliate l'eccesso, ma consiglio personale, esatto, tenetene sempre un leggero spessore centrale, ok? Vi aiuterà poi durante la fase di estrazione, ok? In questo modo. Una volta che avete riempito il mold con la pasta di zucchero, lo andate a riporre in frigorifero per almeno 10-15 minuti. In questo momento non posso perché la pasta di zucchero è fresca ed è umida perché ovviamente c'è molto caldo. Quando dovete estrarlo, dopo che l'avete tirato fuori dal frigorifero, dovete estrarlo subito innanzitutto, altrimenti la pasta di zucchero subisce lo shock termico. Andate lateralmente e cominciate a staccarlo dai bordi in questo modo, ok? Dopodiché lo mettete, per dire, a testa in giù e schiacciate con, vedete, con gli indici. Sì, sì, ecco, sì, esatto. Lo stampo lo piego un po', Natasha, assolutamente sì. Io metto gli indici dietro, con i pollici faccio forza e vado ad estrarlo. Ripeto, in questo momento non è possibile. Potremmo fare una cosa. Potrei metterlo in frigo e vedere se riusciamo a farlo... Anzi, mettilo un attimo in congelatore più che in frigo. Mettilo nella parte quella a meno. Così vediamo se riesco a farvelo meglio dopo. Quindi, io qua me ne ero preparati, a parte il nostro bellissimo tronchetto, me ne ero preparato qualche d'uno, come potete vedere, ok? E utilizzando, in questo caso, dei colori in polvere, a parte che potete utilizzare ovviamente la pasta di zucchero già colorata. Ma, ciao Attilia, un abbraccio! Ma, con invece del colorante in polvere, in questo caso rosa, noi che cosa facciamo? Ci mettiamo... Scusate, mi li sposto qua, così. Perché vi ho fatto vedere l'hard rock? Perché ovviamente l'hard rock, essendo una gun paste, si presta moltissimo a questo lavoro, ok? Quindi, utilizzando l'hard rock, in frigo asciuga velocemente e poi rimane bella solida. Soprattutto ha un'influenza, diciamo, minore sul... o meglio, l'umidità, diciamo, non attecchisce tantissimo l'hard rock. La rock resiste abbastanza bene anche alle altre temperature e ha un grado di umidità abbastanza elevata. Soprattutto perché, utilizzandola con lo stampo, rimane un pochino più spessa. Mi è venuto fuori un fischio. Ok, in questo modo, vedete, stiamo semplicemente andando a... Hai visto, Annalisa? Mi hai ispirato stamattina. Annalisa ha pubblicato dei bellissimi fiori fatti col mold e l'hard rock flower e stamattina mi ha ispirato la demo di oggi. Quindi non posso che ringraziare Annalisa. Adesso, noi abbiamo dato una leggera sfumatura ai nostri fiorellini e con, in questo caso, io utilizzo il nostro bee painting oro, ma potete utilizzare anche il giallo, a me piaceva fatto con l'oro, ok? Andiamo a colorare il centro dei nostri fiorellini in questo modo. È veramente molto semplice, nel senso che, se escludiamo quei dieci minuti di riposo in cui la pasta di zucchero deve stare appunto in frigorifero per rapprendersi, se non avete molto tempo, dovete preparare molti fiori in due secondi, come potete vedere. Siete in grado di preparare delle decorazioni comunque di impatto, comunque molto carine, senza impazzire. Soprattutto in questo periodo in cui maneggiare la pasta di zucchero diventa veramente complicato, ecco, soprattutto per... perché appunto si scioglie, l'umidità diventa un po' difficile. Allora, allora, i fiorellini, adesso te lo dico subito, Natascia, te lo dico in me la riga. Ve lo misuro subito, credo che sia intorno tra i 3 e i 4 centimetri, però a scanso di equivoci lo andiamo a misurare. Esattamente. Il fiore è lungo circa 4 centimetri e mezzo, poi è chiaro che a seconda di quanto lo andate a, diciamo, a stringere o ad allargare, sarà più o meno largo. Comunque, in linea di massima è 4 centimetri e mezzo, ok? È un bel fiorellino. Riprendiamo il nostro tronchetto che abbiamo fatto ieri e possiamo delicatamente andare a, aiuto, ecco, posizionare i fiorellini sopra. Allora, che cominciano a essere abbastanza, soprattutto su... li ho messi qua sul tronchetto non peraltro, ma perché mi piaceva. Poi con un po' di colla alimentare potete eventualmente anche posizionarli, io ora non ce l'ho, ma potete posizionarli anche magari un po' in, ecco, in bilico, in questo modo, ok? Ve lo faccio vedere. No, questo così non mi piace, quindi lo mettiamo così, ok? E in due secondi avete preparato il... avete preparato i fiorellini che potete, ripeto, colorare come meglio credete. Noi in questo caso abbiamo utilizzato dei colori in polvere e le nostre tempere alimentari, ma potete anche... Se avete bisogno, io sono qua, ci vediamo domani alle due con la promo del giorno. Basta. Ciao ragazze, grazie di tutto, buona giornata. Ciao, baci baci. e... Grazie.